Scandale, 13 maggio 2012, piazza Condoreo, i fuochi d'artificio per la festa della Juventus, dei Juventini di scandale. Ed eccoli! A fare il tricolore nei fumogeni dovete un po' immaginare perché il video è quello che è, d'altra parte l'illuminazione della piazza non è gran che, mentre qui riuscite a intravedere una parte del tipo bianconero a scandale, ha corso in piazza Condoleo per festeggiare anche con una grande torta, vediamo se riesco a mostrarvela. Ecco la torta, fumante e champagne raro, la torta per la Juve. Grazie a tutti! 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 Ancora pochi d'artificio Sto facendo un video, aspetta 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 Sto facendo un video, aspetta